Se sistematicamente il sistema mediatico, che peraltro è a sua volta intimamente connesso al sistema del potere politico, ci racconta una cosa per un'altra, allora qui delle due l'una, o si tratta di perfetti incapaci, i quali non hanno la strumentazione intellettuale per cogliere determinate cose, anche quando queste cose ormai iniziano a diventare evidenti o addirittura sono ormai diventate la palissiane, oppure sono in malafede. Ed è chiaro che la risposta vera, soprattutto per quelli che tirano i fili e che stabiliscono le strategie, su questo ritorno immediatamente perché è già un punto essenziale su cui capirsi, ma quelli che tirano i fili, quelli che stabiliscono le strategie, sono perfettamente consapevoli, sono il gruppo direttivo, direzionale, manageriale che gestisce la holding del consenso. Vengo subito a specificare una cosa che è importante e che potrebbe sfuggire, una domanda che potrebbe venire spontanea è questa, ma è mai possibile che tutti, proprio tutti, quelli che lavorano nel mondo mediatico, quello che viene definito in gergo, ma in termini abbastanza familiari, ma è mainstream, il flusso principale, in buona sostanza i cosiddetti grandi media, il Corriere, Repubblica, eccetera, 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 la Rai, Mediaset, questo flusso principale, diceva, è possibile che tutti quelli che ci lavorano siano perfettamente consapevoli del grado di manipolazione, del grado quindi, per usare un termine meno tecnico di truffa che viene attuata? Allora su questo dobbiamo essere molto chiari, la risposta è no. Molti semplicemente si adeguano a quello che è l'andazzo che trovano all'interno del contesto in cui appunto si trovano ad operare. Gli viene voglia di fare i giornalisti, lo ritengono più o meno a torto, più o meno a ragione, un mestiere preferibile ad altri, e quindi hanno voglia di entrare nel sistema mediatico, un po' di fascino, ma pensate tra l'altro che il lettore del telegiornale, che per l'appunto è uno speaker, diventa però un personaggio pubblico molto più magari di osservatori assai più qualificati, che però siccome non stanno tutti i giorni sotto i riflettori, insomma quali che siano le motivazioni, molti entrano e si adeguano, semplicemente cercano di capire dove, come si dice, voglia il padrone che venga attaccato l'asino. Quindi possono non essere consapevoli completamente delle strategie, ma sicuramente vi si accodano. Potremmo dire, per fare un paragone musicale, che sono un po' come gli strumentisti di una grande orchestra. Lo spartito l'ha scritto qualcun altro, il direttore d'orchestra è qualcun altro, dopodiché loro eseguono la musica che sostanzialmente si vuole che vada in scena.